Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi. Ed io sono Marco Matarazzi. Benvenuti al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di come sta cambiando la distribuzione alberghiera. La distribuzione è un concetto importante per gli albergatori. Sottile. Sottile, è una domanda che mi fanno sempre. Dove dovrei distribuire? Dove dovrei vendere? Come? Non si può rispondere facilmente. Proprio perché va visto caso per caso, innanzitutto. Ma anche perché i tempi corrono e le meccaniche che stanno dietro alla distribuzione, più velocemente di quanto pensiamo, stanno cambiando. Il viaggiatore corre ancora più veloce, no? Quindi il nostro futuro ospite. E quindi gli strumenti che troviamo online per prenotare, per trovare un soggiorno, seguono quelle che sono giustamente, come dici tu Edoardo, è l'esigente del viaggiatore, che è sempre più smart, che è sempre più social, che è sempre più con il telefono in mano essenzialmente. Ha la ricerca dell'offerta, riesce a comparare velocemente i prezzi di diverse soluzioni, ha dei soggiorni più brevi, quindi magari fa più soggiorni durante l'anno e così via. E appunto perché quel concetto di evoluzione è partito dalle agenzie di viaggio, classiche agenzie in cui la famiglia si andava a prenotare e poi nel tempo si è andato a rivoluzionare quel concetto lì, perché il viaggiatore si è fatto più intelligente, più smanettone e ha iniziato a prenotare da solo i propri viaggi, a differenza di prima che magari un hotel per farsi trovare, per farsi prenotare, doveva appunto rivolgersi ad un'agenzia di viaggio. Eh sì, ma più che smart, semplicemente quella volta non c'erano gli strumenti, no? Quando si andava in agenzia a prenotare un soggiorno, si andava in agenzia. L'agenzia aveva il suo terminale da cui cercava le soluzioni. Come dici giustamente tu, alcune strutture ricettive più piccole non avevano visibilità in questo contesto e quindi l'albergo distribuiva in quella maniera. Poi c'erano ovviamente i lenchi telefonici, le pagine gialle, eccetera. Però si raggiungevano male le masse, ma anche la mole di richiesta era più bassa. Poi, come sappiamo bene, è arrivato tutto quanto il mondo di internet, che ha cambiato tutto. Quindi a quel punto gli alberghi cosa hanno fatto? Hanno iniziato a costruire i loro primi siti, che erano di fatto delle vetrine, con poca mobilità in termini di capacità di ricevere prenotazioni con il booking engine connesso, eccetera. E nascono le prime nota, che hanno iniziato a prendere invece la fiducia dei nostri viaggiatori. E quello è importante, il concetto di fiducia. Ad un costo bello alto. Il costo è stato bello alto, perché lo stanno ancora pagando, lo stiamo ancora pagando, queste percentuali importanti di commissioni per ottenere dei clienti che non sono i nostri, ma sono del portale. Quindi internet ha cambiato molto le regole, ma ha permesso anche a strutture più piccole di avere visibilità. Quindi ha aumentato anche la concorrenza per quelle più grandi. E quando prima hai detto ad un costo elevato, io non ci conto solamente il 20% di commissioni che pago a booking, ma ci conto anche il fatto che adesso il mio albergo, che ha 100 camere ed è un 4 stelle, eccetera, è messo accanto, nella classifica magari di booking, lì nei risultati di ricerca, accanto al bed and breakfast di tre camere. E quindi le mie 150 euro a note sono messe accanto alle sue 90. La sua posizione è messa lì accanto alla mia e quindi quella è una concorrenza bella e buona. E ovviamente questo è uno dei costi che andiamo a pagare. E magari il bed and breakfast, piccola parentesi, ha una delle recensioni migliori rispetto alle tue e quindi l'utente finale dice ma guarda quel bed and breakfast lì ha anche una valutazione più alta. Esatto, quindi va bene scegliere uno, va bene scegliere l'altro, semplicemente dato di fatto è che la concorrenza è cresciuta in maniera esponenziale. Esatto. E quindi questa nostra distribuzione come è cambiata? Abbiamo il nostro gestionale, che ovviamente è connesso al channel manager, che ovviamente è connesso al nostro bovine engine e quindi vado ad impostare le mie regole di vendita. Dico su Booking ci metti queste camere, su Expedia quest'altra, su tutti quanti questi portali quest'altro prezzo qui e sul mio sito diretto vendo in quest'altra maniera. Giusto. Questo è un po' lo stato dell'arte attuale. Assolutamente sì. Parlavi prima però di sistemi di prenotazione. Parlavi di Booking Engine perché questo viaggiatore si è evoluto, si è evoluto a tal punto che va a prenotare direttamente la struttura ricettiva. La trova magari su uno ATA, la trova su Metasearch e dice ok, benissimo, il prezzo mi piace, vado a concludere direttamente la prenotazione. Questo è figlio ovviamente di un sistema di prenotazione di ebooking engine che sono migliorati, ma anche di una maggiore sicurezza all'interno del mondo dei pagamenti, no? È vero, il mondo dei pagamenti è cambiato moltissimo. Io ricordo quando qualche anno fa si aveva paura di inserire la carta di credito su un sito, su un portale, perché magari te la rubano, perché magari te la clonano, eccetera. E quindi quello che facevo io da giovane o che mi è stato insegnato dai miei era avere una carta prepagata da usare per fare gli acquisti online. Esatto. Dovevi comprare il cellulare online, già era un panico, ricaricavi i 100, 200, 300 euro sulla prepagata e da lì acquistavi. Esattamente. Oramai siamo tutti quanti più tranquilli negli acquisti online. Non c'è più quella frase, ah vedrai ti arriverà un mattone per posta. No, non c'è più, no? Ormai tutti quanti acquistano online. La PSD2, la direttiva che ha cambiato il mondo degli incassi da tre anni a questa parte, quattro anni a questa parte, sicuramente ha aiutato molto. Perché? Perché ogni acquisto che noi facciamo è sempre verificato a due fattori. Quindi con SCA, abbiamo parlato tantissimo nelle puntate precedenti, se siete curiosi andate a sentire. E quindi il nostro utente medio è più tranquillo nell'acquistare online. Nel caso remoto in cui ti rubano la carta di credito o te la clonano, cosa che è più possibile probabilmente se uno sta lì di persona perché ti copiano i numeri, vieni comunque rimborsato. Quindi i circuiti sono a tuo favore e quindi stai più tranquillo. Questa parentesi l'abbiamo aperta perché per dire che adesso un turista non ha particolari problemi ad inserire su un booking engine la sua carta di credito. Se però le condizioni di prenotazione sono migliori di quelle che trova sul portale booking.com di turno. Se noi abbiamo una distribuzione che invece non è ben pensata, dove le condizioni di acquisto sul nostro booking engine sono peggiorative, e non parlo solo del prezzo, perché non è solo il prezzo, ma anche le condizioni di addebito sono peggiorative rispetto a quelle di booking, io non ci prenoto, prenoto su booking, ho più vantaggi. Facciamo un esempio, vendo a 100 euro la camera su booking.com e la vendo a 95 sul mio canale diretto, ma il mio canale diretto prevede un acconto del 30% da pagare subito o magari tramite bonifico, io per 5 euro al giorno nemmeno mi ci sto a mattire, booking magari mi prende la carta, non mi addebita nulla, se non cancello entro una settimana dalla data di check-in, oppure anche dopo magari ho cancellazione gratuita, io vado su booking tutta la vita. Mentalmente sei più libero. Sei più libero, ma anche operativamente parlando devi fare meno cose, quindi non guardiamo solamente la nostra strategia di prezzo, ma anche la nostra strategia di piani tariffari, di come questi sono configurati all'interno del nostro booking engine, e parlando appunto, parlavo con un albergatore che aveva una strategia di piani tariffari completamente malpensata sul suo canale diretto, però grazie al cielo i nostri amici ascoltatori e gli albergatori in generale stanno prendendo sempre più consapevolezza di questa necessità, e quindi la distribuzione si sta polarizzando verso un acquisto diretto, quindi sempre più persone prenotano direttamente, o tramite email e telefono, oppure tramite appunto il booking engine. Chiaro. Parlavamo nel dietro le quinte, Marco, anche di Airbnb che si sta rivolgendo verso gli hotel, quindi anche qui un cambio di rotta, un cambio di distribuzione rispetto a come era nata questa piattaforma, una piattaforma che nasce fondamentalmente per gli affitti brevi, per gli appartamenti, ma che poi nel corso della sua storia si va a muovere anche verso quelli che sono le strutture ricettive come gli hotel, quindi un qualcosa che apparentemente ed inizialmente era fuori target. Inizialmente sì, considera che questo approccio di apertura verso gli hotel nasce nel 2018, quindi ormai sono passati diversi anni da quando Airbnb ha sdoganato la possibilità di connettere un channel manager al suo portale per vendere, poi lì bisogna essere attenti alle strategie di pricing di nuovo, proprio perché la parte delle commissioni le paga l'host, l'altra parte vengono addebitate al cliente e quindi rischiamo di distribuire su questo canale che inizialmente era nato per, come dicevi tu, l'extralberghiero, con un pricing che potrebbe trarre in confusione, quindi sicuramente è un esempio di un nuovo portale che è nato, che prima non c'era, un portale che ha sicuramente visibilità ma che dobbiamo gestire con attenzione a livello di prezzo, onde evitare di trovarci, diciamo fuori, diciamo confondere il cliente con dei prezzi che siano troppo variegati dal nostro canale diretto, il booking.com di turno o il metasearch che penso sia l'ultimo punto dove volevamo arrivare. Esattamente, infatti in tutto questo ecosistema di distribuzione che evolve un ruolo cardine è quello rappresentato dai metamotori, dai metasearch, abbiamo parlato ultimamente di Google Travel con i propri strumenti interni di promozione delle strutture, ma basta pensare anche a Trivago, TripAdvisor, comunque una distribuzione che cambia e che mette in correlazione le strutture anche per lo stesso prezzo, quindi questo viaggiatore è veramente subissato dai prezzi che vede e potrebbe avere anche una difficoltà comunque a capire dove prenotare e come prenotare, no? Sì, esattamente, questi portali portano i nodi al pettine, perché se tu hai una strategia di prezzo che non è ben pensata, tu sul metasearch ti hai la cartina torna sole, vedi che effettivamente su Expedia costa meno rispetto al canale diretto e sei fritto, quindi questi strumenti i nostri clienti li utilizzano, noi dobbiamo imparare a averne visibilità e averne controllo. Il metasearch, come hai detto giustamente tu, uno che sta crescendo moltissimo è Google Travel, l'abbiamo parlato in tantissime puntate del podcast, abbiamo spiegato bene come funziona ed è probabilmente anche il futuro, proprio perché quelle prenotazioni che arrivano dai metasearch non sono prenotazioni intermediate, quindi questi portali di fatto non sono delle agenzie, ma sono dei portali di price advertising, quindi tu quello che fai è sponsorizzi il tuo prezzo, dici pago il metasearch per mostrare il mio miglior prezzo. Da lì poi la prenotazione viene finalizzata sul booking engine, qui è tutto diciamo di fatto è una prenotazione diretta che il cliente fa con te, però devi saperlo utilizzare questo strumento, altrimenti rischi che sia semplicemente una vetrina ulteriore per quelli, quell'agenzia online, che già ti fanno parecchia concorrenza, quelle di cui parlavamo prima ovviamente. Assolutamente sì, e a me non vengono in mente altri esempi per questa distribuzione che evolve, un accenno lo possiamo fare comunque sulla sicurezza dei pagamenti digitali che già l'hai affrontato te, sono aumentati molto. Sì, i pagamenti sicuramente hanno aiutato in questo, quindi gli hotel si possono dotare di strumenti più chiari per l'incasso, evitare di collezionare la carta e tenerla lì nel cassetto per fare un pan manuale in caso di penale, automatizzare gli incassi con dei processi automatizzabili all'interno del gestionale, come nel caso di Slope. Se vogliamo strafare oggi, Edoardo, possiamo fare una previsione su quelli che potrebbero essere le distribuzioni del futuro. Tutti quanti ne parlano e io penso che sia veramente una rivoluzione quella della chat GPT come strumento di intelligenza artificiale in grado di farci in qualche modo da agente di viaggio. Quindi quello che mi aspetterei tra un po' è che queste chat in intelligenza artificiale, queste chat digitalizzate completamente, potrebbero essere i nuovi portali da cui andare a prenotare. Quindi teniamo un occhio aperto, non è che ci possiamo far granché, noi sicuramente dal nostro punto di osservazione e ospitalità 4.0 ci teniamo un occhio. Mi aspetto però che per organizzare una vacanza il futuro sarà quello. Trovami un soggiorno da tre notti in questa città, voglio spendere il massimo tot, voglio che sia quattro stelle che abbia la piscina e voglio poi poter fare un tour di questo, questo, questo e questo, quanto costano i biglietti. Così sarà veramente una rivoluzione dell'hospitality. Quindi a quel punto, Edoardo, creeremo un nuovo podcast e lo chiameremo ospitalità 5.0. Per forza. Assolutamente sì, però comunque alla base ci sarà sempre, Marco, una distribuzione agile e consapevole da parte dell'albergatore. Una strategia. Esatto. E certo, e certo. Tu devi impostare e dire questi sono i miei prezzi di vendita, poi dopo di là ci sarà qualcuno che le aggregherà. Esatto, è l'albergatore che comunque detta le regole del gioco e di prezzi soprattutto. Se poi dopo esageri e spari troppo in alto, ci sono i calcoli che deve fare l'imprenditoria. Lo lasciamo a voi. Assolutamente. Come sempre, diteci il vostro parere, che cosa ne pensate, scrivendoci a podcastchiocciolaslope.it Ciao a tutti. Buona distribuzione.